Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio proporvi un video alternativo alla sfida di infliggere danni con le tanniche esplosive o con le stazioni di servizio e rifornimento. In un precedente video vi ho spiegato a grandi linee come si fa la sfida, però c'è un piccolo trucchetto che vi permette di completarla velocemente, cioè atterrare qui al dominio di Doom e procurarvi un'arma. Quindi procuratevi una qualsiasi arma, atterro qua, prendo una qualsiasi arma tipo questa e vado dove c'è uno scagnozzo. Ora spero di farla in tempo prima che arrivino altri giocatori. Lo atterrate, lo trasportate, lo lanciate nei pressi di una stazione di servizio e colpite qui, in modo che esplode e fa danno e quindi ve lo conteggia. Vedete? Praticamente ve lo conteggia. Ecco, si è aggiornata la sfida. In questo modo potete completarla più rapidamente. Ecco, si è aggiornata la sfida.